gli ultimi consigli del suo struttore Michele è pronta per partire parte in questo momento la sua gara molto veloce come al solito si distende per iniziare il suo pole bending bella girata in fondo al pole bending esecuzione dell'andata molto veloce, molto vicino ai pali molto tecnico, bravo ora girata anche in fondo bella esercizio per lui questo pole bending molto veloce lo spostamento del gioco sul ponte effettuato in maniera terretta molto veloce, si è preso qualche rischio ma è andata bene con Michele in precisione non è quadrata all'ingresso ma ha già effettuato esercizio ora a campagna molto veloce nel pack ora vediamo cosa fa la cancella l'apertura effettuata chiusura effettuata in maniera molto corretta e veloce un cambio di natura per effettuare in maniera corretta la ballona terra effettuata in maniera corretta ora vola verso il parallelo un pochino largo sul primo barile bene sul secondo abbastanza stretto sulla virata mantiene una velocità ora a side pass a L opta per il pivoste di anteriori già effettuata la prima parte bel pivoste per lui molto veloci effettuato anche la seconda parte ora si distende per Gioia il tornatore a tagliare traguardo con il tempo di 1 25 e 90 1.25 e 90 per lui aspettiamo aspettiamo il compito delle primeità ma vediamo sono una due sono due le prime